E' l'estate. Che cosa incredibile che era l'amore. Dirsi lì, dirsi lì. Bello, eh? Ma che bello questo posto. Bellissima. Era il giorno che volevo farla pedaglia. Grazie. 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 Una sera a cena ho conosciuto queste persone che stavano parlando di un matrimonio e io mi sono ammutolito sentendo questi racconti visionari, onirici. Mi sembrava che fossero tutti matti, ho provato a fare delle battute, nessuno rideva e ho capito che lì c'era una storia da scrivere. Azione! Marco, vai! Grazie. 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 Ok, è una vera perché la gente, dic'ava avuto tempo di conoscerli. Il prete è laterale una quinta nel suo corpo, deve stare un po' bassi con la macchina, non ce lo proibisce nessuno. Cos'è si faccia da fare il supercazzo? nah. Recono, a dire di 댓 TEDRA, Grazie a tutti. Grazie a tutti. E si perde per le strade del mondo Io che amo solo te Io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù Io mi fermerò e ti regalerò